L'accordo che andremo a sottoscrivere con AICA rappresenta un ulteriore patto tra pubblico e privato dove il privato chiede di avere degli immobili di pregio, comunque situati in luoghi meravigliosi per poter sviluppare il settore turistico alberghiero come ci deve e noi come agenziale del Magno siamo in grado di offrirlo sia per i beni gestiti direttamente quelli dello Stato, sia quelli degli enti locali che comunque con i quali lavoriamo tutti i giorni, fianco a fianco quindi è un patto di lavoro dove domanda e offerta tutti i giorni si mettono insieme per trovare soluzioni mediche